15 febbraio Santi Faustino e Iovita Martiri Gloria dei martiri Due fratelli martiri patirono all'inizio del secondo secolo dell'era cristiana e la loro memoria si è conservata in onore nella Chiesa. Passa rapidamente la gloria dei conquistatori e degli uomini di Stato e presto i loro nomi vengono cancellati dalla memoria dei popoli. Si passano in rassegna i sapienti onde saperi se a quell'epoca ne sono esistiti e quali furono le loro azioni. Breccia, la capitale della cionomania italiana, appena si ricorda di quelli che la governarono o l'elustrarono nel secondo secolo. Ecco invece due dei suoi cittadini, il cui ricordo durerà quanto il mondo. Glorifichiamoli in questi giorni in cui i loro semplici parlano con tanta eloquenza della fedeltà che il cristiano deve a Dio. Vita Faustino e Iovita nacque la Breccia. Durante la persecuzione di Traiano furono arrestati e tracinati in molte città d'Italia, soprattutto a Milano e a Roma, dove subirono i più gravi tormenti per la fede cristiana. Finalmente, Ero troncata la testa a Breccia all'inizio del regno di Adriano. I loro atti sono opera di uno scrittore che visse molto tempo dopo il loro martirio, fine ottavo principio nono secolo, il quale si propose di far opera d'edificazione, inventando pie leggende, piuttosto che tenersi alla realtà storica. Preghiera Martiri di Gesù Cristo Quando paragoniamo le nostre prove alle vostre, le vostre lotte con quelle che dobbiamo noi sopportare, quale riconoscenza non dobbiamo a Dio che ha tanto risparmiato la nostra debolezza? Noi, così pronti a violare la legge del Signore, si pigri a rialzarci quando siamo caduti, come avremmo potuto sopportare i tormenti che doveste attraversare voi per giungere al riposo eterno? Eppure, siamo in cammino verso la stessa metà alle quale voi siete già arrivati. Anche a noi è riservata una corona cui non ci è lecito rinunciare. Rialzate il nostro coraggio, oh santi martiri, armateci contro il mondo e le cative inclinazioni, affinché, non solo con la bocca, ma anche con le opere e con gli esempi, confessiamo Gesù Cristo e testimoniamo di essere cristiani.